Ciao ragazzi e benvenuti al nuovo video dei pronostici 24esima giornata di serie A Siamo sempre qui con Puky, siamo pronti per pronosticare questa giornata Devo dire che rispetto all'ultima mi piace decisamente di più Ho fatto scelte molto più articolate e adesso vi andrò a dire Partiamo come sempre dall'analisi dell'ultima giornata Prima di andare con i nuovi pronostici Per vedere quello che abbiamo fatto qui su Puky Allora vi dico che tra i 9 pronostici che vi ho dato nell'ultima giornata ne abbiamo presi 6 Però vediamo adesso anche i risultati su Puky come sono andati Perché sapete che comunque non è come il betting normale Vediamo innanzitutto quanti risultati abbiamo preso su queste partite Nemmeno il risultato esatto abbiamo preso Quindi partiamo già molto male Allora Lecce-Fiorentina abbiamo messo 0-2 e finita 3-2 Lecce Empoli-Gena abbiamo messo 0-1 e finita 0-0 Udinese-Monza abbiamo messo 1-1 e finita X 0-0 Signore-Milan abbiamo messo 1-3 e finita 2-3 Quindi più o meno ci siamo Bologna-Sassuolo abbiamo messo 1-0 e finita 4-2 Torino-Salitana abbiamo messo 2-0 e finita 0-0 Napoli-Verone finita 0-0 E attenzione perché stava per finire X Poi Napoli l'ha vinta per fortuna Altanto è cinquesimo 2-1 Napoli è finita Atalanta-Lazio 1-0 e finita 3-1 Inter-Juve 1-1 e finita 1-0 Roma-Cagliari 1-0 e finita 4-0 Partita clamorosa da Roma Adesso andiamo già con il pronostico della nuova giornata Andiamo a vedere queste 10 partite Cosa ho selezionato per voi Prima però vi ricordo che per pronosticare su Pukki vi lascio ovviamente come sempre il link in descrizione Una doppia classifica e infatti voglio vedere questa giornata che posizione abbiamo fatto nella classifica Abbiamo fatto 333esima perché siamo andati molto molto male Non abbiamo vinto soldi 333esimi che soldi pretendi di vincere del resto Allora Pukki ha una doppia classifica Una gratuita in cui puoi pronosticare gratuitamente sulle tue partite E totalizzare un punteggio Se arrivi primo nella classifica gratuita vinci la Pukki Ball Che ha un costo se no di 23 dollari Che puoi acquistare dal link in descrizione E c'è direttamente alla classifica dei pro La classifica dei pro con i punti dei tuoi pronostici In classifica arrivi in una posizione tala che ti permetterà di guadagnare addirittura dei soldi E nemmeno pochi Perché se arrivi primo Come puoi vedere qui dai guadanni Se arrivi primo vinci più di 100 euro Che sono tantissimi A me è capitato di vincere anche 50 euro facendo 20 30 euro facendo ventesimo Quindi vuol dire che si possono rimborsare tranquillamente quei soldi lì Adesso andiamo però con la nuova giornata Con la 24esima giornata di Serie A Che parte stasera con Salernitana-Empoli Quale partita se no poteva iniziare Salernitana-Empoli ragazzi A parte gli scherzi La partita fondamentale Sono di parte lo sapete Però io cercherò di darvi un pronostico Serio Perché quando faccio questi video lo sapete ragazzi Il tifo si separa Quando è una partita che so che sono troppo di parte Vi dico ragazzi Questa non bella pronostica Come ho fatto nell'ultimo video Salernitana-Empoli ragazzi E' una partita che per me la Salernitana non perderà Perché gioia in casa Lo stati sarà una bolgia Comunque la Salernitana in casa abbiamo visto quanto può mettere in difficoltà Anche grandi squadre Contro l'Empoli che Attenzione l'Empoli sta facendo bene Una squadra che ha fatto 5 punti nelle ultime 3 partite Quindi non sarà una squadra facile da affrontare assolutamente Ma la Salernitana comunque sta preparando la partita molto bene Con attenzione perché è una partita fondamentale Io credo che la Salernitana non perderà Quindi il mio pronostico è 1x Ma l'altro pronostico molto molto carino che vi do E' sugli angoli Perché angoli casa 4,5 Una giocata che secondo me ci sta tantissimo Magari più per una multiple perché è una quota 1,51-1,52 Angoli casa 4,5 Altrimenti se volete magari fare una singola Angoli casa 5,5 Aviso sta a 2,50 di quota Quindi veramente molto molto interessante Comunque ragazzi pronostico 2-1 Salernitana Cagliari-Lazio Questa è la prima partita delle scelte 2 no bet in questa giornata Cagliari-Lazio è quella no bet perché non so veramente cosa aspettarmi La Lazio è in un ottimo periodo di attenzione Perché perso l'ultima valamente con l'Atalanta Ma la Lazio è in un ottimo periodo in campionato Sta facendo ottimi risultati Veniva da 4 vittorie di fila Vabbè prima dell'Atalanta c'era un parigi con Napoli Però comunque sta facendo molto bene Il Cagliari in casa Ragazzi non perdeva ad ottobre prima dell'ultima partita contro il Torino Per cui il Cagliari in casa non sai cosa può aspettarti Le squadre Mettiamo in generale le squadre di lotta salvezza In casa non sai mai cosa può aspettarti E questa è una di quelle partite quindi io ve la do no bet Non vi do manco pronostici sugli angoli Niente niente ragazzi Vi do solo il pronostico su Pugli Che comunque ce lo possiamo permettere perché non spendiamo nulla Quindi Cagliari-Lazio io vi do 0 a 1 Roma-Inter Ecco questa qua è una partita bellissima Perché l'ultima partita ho visto una Roma veramente bella È vero che era contro il Cagliari Adesso la Roma sta a tre vittori di fila Però ha battuto Cagliari-Selidana e Verona Adesso c'è una sfida importantissima Perché vedi la Roma a confronto con Vabbè la squadra però più forte del campionato Una delle squadre più forti in Europa quest'anno La Roma attenzione L'ultima secondo me ha fatto una partita strepitosa Che non faceva da una partita così bella Secondo me da almeno due anni Una partita così bella da vedere Per il pubblico Però arriva l'Inter Arriva l'Inter Una squadra devastante Devastante C'è il pubblico a favore della Roma Sicuramente Ma la Roma che comunque nelle ultime undici partite Prende gol nove volte Dubito fortemente Non prenda almeno un gol dall'Inter Secondo me Potrebbe prendere anche due Anzi È probabile che ne prenda anche due E comunque l'Inter è anche la miglior difesa del campionato Dubito Prenda più di un gol dalla Roma Almeno questo è il mio pronostico Non è facile Perché è una partita che Il fattore casa può essere dominante Ma il mio pronostico qui me ne do due Uno un po' più semplice Ospite 1-3 Quindi che l'Inter fa almeno un gol E massimo 3 Ci sta Non penso che l'Inter faccia più tre gol Però l'Inter è strana ragazzi La squadra pazza Fortissima Per cui non so cosa aspettarmi Quindi quella è una giocata facile Adesso me ne do una Una quota alta Quindi una quotina dove Per fare una piccola singola Insomma Può essere una giocata interessante Under Uno e mezzo casa Quindi che la Roma fa massimo un gol Più over uno e mezzo ospite Quindi che la Roma fa massimo un gol E l'Inter ne fa almeno due Quota 2-60 Se no mi è una giocata carina Si può fare Non è facile Ma nemmeno impossibile Il mio pronostico ragazzi È uno a due Non sa solo Torino Anche questa partita è delicatissima Non sa solo che Però non riesce a risvegliarsi Non sa solo che non riesce a risvegliarsi Torino è una squadra forte Però vedendo le statistiche Noto che il Torino fuori casa Ha senato solo 5 partite su 11 E non è proprio un'ottima statistica Però d'altro canto Il Sassuolo su 23 partite Solo una contro la Fiorentina Non ha subito gol Subito fortemente Non prende un gol dal Torino Però attenzione Perché anche il Sassuolo Magari potrebbe farlo Quindi il mio pronostico qui è gol Perché per me questa è una partita da gol Ma vi do anche angoli 8 e mezzo Sassuolo è una squadra che fa tantissimi Cioè fa e dà tantissimi angoli Mi piaceva molto Vi dico la verità Anche angoli 4 e mezzo ospite Mi sembra una gol da 1 e 70 Io lo proverei sinceramente Però vi do 8 e mezzo totali Quindi gol 8 e mezzo totali Di tutto l'esatto 1 a 2 Fiorentina e Frosinone Questa è l'altra partita Non ho bet Cioè io non so cosa dirvi Anche perché l'uno sta 1 e 50 Ma non me lo giocherei comunque Penso la Fiorentina vinca Penso la Fiorentina vincerà questa partita Partita troppo strana Di domenica a mezzo giorno e mezzo Non ci erano pronostici Che mi piacevano Il gol non lo metterei Over non lo metterei Perché dalla parte del frosinone Sono tutte statistiche Da over Da gol Dalla parte della Fiorentina No Quindi io non vi do pronostici Giusto su Pugimetto Di tutto l'esatto Che è 2 a 0 per me Ma Bah Bah Stranissima Monza Verona Anche questa Perché il Monza Come ho detto già Negli ultimi due episodi È in un momento strano Difficile per il Monza E quando dico difficile Per il Monza Intendo che il Monza Per i suoi standard È in un periodo difficile Non venite a scrivermi Che se il Monza Allora è in un periodo difficile La seriana In che periodo Dove Perché stiamo parlando Di due cose Completamente diverse Sto parlando del Monza Per i standard Del Monza Non sto confrontando Il Monza La seriana Quindi non fate commenti Fuori luogo Per favore Comunque vi ricordo Di lasciare 300 like Qua sotto Se volete Questa serie Va davanti Perché sto avendo Poco supporto E sto pensando Di interrompere la serie Monza Verona Monza Verona Ragazzi Il mio pronostio Qui è X o gol Perché Verona Sta assenando contro chiunque Ha affrontato Ovviamente Square difficili Ma difficili Le ultime 5 giornate E ha segnato 4 volte su 5 Il Monza Non si sa Veramente Sa C'erano risultati Impronosticabili Strani Difficoltà Per nel vincere Nella vinta 1 Mi sembra Nell'ultime 5 Ma non so che dirvi Ragazzi Io vi do risultati esatto 1 a 1 Ma non so proprio Polonia Lecce Ecco Lecce viene da Una grande partita Grandissima partita Contra la Fiorentina Rimonta 3 a 2 Veramente complimenti A Lecce Che ha fatto una gran partita Secondo me E qui vi do Un doppio pronostico Perché Ok che lecce viene da Una gran partita Ok che secondo me Avrà l'umore a mille Ma è sempre Per me lecce Non è una grande squadra Lo dico E lo ripeto Perché l'ho detto Già altre volte Per me lecce È una squadra Che ha fatto Tanti punti all'inizio Sennò adesso Stava in difficoltà Serissima Però comunque Complimento Perché l'ultima partita Vinta Non è da tutti Lecce Ha subito 19 volte Nelle ultime 19 partite Non penso Non subirà gol Contro il Bologna Che gioca in casa Non ha mai vinto Fuori casa E lecce E nemmeno penso Vincerà questa volta Il mio pronostico Semplice E multigol 1-3 casa Per me questo È il pronostico Ma Vi do un'altra combinazione 1-x E under 3 e mezzo Quindi che Bologna non perde E non fanno più di 3 gol totali Pronostico 2-0 Genoa-Atalanta Ecco Questa è proprio Una partita Ragazzi Che mi chiama Mi chiama Proprio l'X Questa partita Mi chiama l'X Non so perché Ho questa sensazione Qui Potrebbero anche Signare entrambe Assolutamente sì E vi do Diverse statistiche L'Atalanta Nelle ultime 5 4 volte Over 2 e mezzo Entrambe Le squadre Non perdono Da 8 partite Entrambe Per me il Genoa Ragazzi Quest'anno Il Genoa È la squadra Più forte Sotto le BIC Per me il Genoa È la più forte Sotto le BIC Perché poi quest'anno Non ci sono né Sassuolo Né Udinese Che hanno fatto Buone stagioni Che sono entrambe In rischio di retrocessione Quindi il Genoa Per me quest'anno È la migliore Sotto le BIC Il Genoa Nelle ultime 8 partite 5 sono finite In X E Nelle ultime 8 partite 6 volte Sono finite In goal Quindi ragazzi Per me Qui proprio Assolutamente Pronostico X o goal Assolutamente Sì Il risultato esatto 1 a 1 Milan-Napoli Ecco questa sarà Una partita bellissima Da vedere Perché Ok Milan-Napoli Negli ultimi due anni Anche con le sfide Champions È diventata una partita Veramente Sempre contesa Brillante È bella Bella da vedere Il Napoli Non è in un buon periodo E lo continuo a dire Ma Perché Dico che il Napoli Non è in un buon periodo Perché Inutile che Venite nei commenti Dici Sei tipo Salernitano Addirittura L'ultimo video Mi avete accusato Che Ho pronosticato L'X A Napoli Verona Perché Dico Salernitana Ma Proprio perché Dico Salernitana In teoria Avrei dovuto Ti fare Napoli L'ultima partita Cioè Io veramente Certi commenti Che leggo Non ce la faccio E comunque Qui Il mio pronostico Milan-Napoli Non può che andare A favore del Milan Perché Il Milan Nelle ultime Sei partite In casa Cinque Le ha vinte Sa In un buon periodo È vero che Subisce tanto Lo dimostra anche Che Nelle ultime Sette partite Sette volte E finita in Over due e mezzo Nelle ultime Cinque partite Tutte e cinque Sono finite In gol Però La statistica Che più mi piace È che Il Milan Nelle ultime Dieci partite Nove volte Multigol Due Quattro È uscito Al Milan E strane Ho cercato Diverse combinazioni Il Napoli Il gol Lo potrebbe fare Perché Il Milan Sta subendo spesso Quindi il Napoli Il gol Lo potrebbe fare Ma io credo Che il Milan Ne possa fare Anche due Io credo Che il Milan Ne possa fare Anche due Penso che Milan possa vincere Questa partita Se cercherà Di non subire Perché per me Il gol Lo fa sicuro Il pronostico Qua è uno Quindi uno Per il Milan Però Vi do In alternativa Due quattro Casa Multigol Due quattro Casa Milan Sì Anche se Ripeto Questo è il mio pronostico È una partita Ostica Da non sottovalutare Nonostante il periodo Abbastanza negativo Del Napoli Quindi Vi do Pronostico Due a uno Milan Ultima partita Juve Udinese Qui sinceramente Non sono stato a vedere Statistiche O altro L'uno della Juve A 1.40 Non ve lo consiglierei mai Io questi pronostici Certo ai secchi Uno o due A 1.30 1.40 1.50 Non ve li consiglierei mai Juve Udinese Ragazzi Multigol 1-3 casa Un pronostico semplice Da aggiungere in multipla Per me ci sta Anche perché la Juve Mi aspetta una partita Senza esagerare Che gol Magari Un Udinese Potrebbe essere Difficile Ostica Non lo so Magari va in vantaggio E fa una partita Particolare Per me la Juve Il gol lo fa Poi Non so Se ci saranno sorprese O qualcosa La Juve deve confermare Comunque di Poter ancora lottare Per lo scudetto Quindi Multigol 1-3 casa 1-0 Tutto le so Ragazzi Per me Anche questa giornata è tutto Io spero che vi siano Piacenti In realtà non spero Che vi siano piaciute Non dovete essere Forse d'accordo con me Che vi ripronosti Perché questi qui Sono i miei pronostici Poi ognuno di voi Puoi avere un'idea diversa Qualcosa di diverso Un'opinione diversa Anzi Mi fa piacere Se me lo scrivete Rai Andrea Secondo me è sbagliato per questo Non mi evite a dire Perché Tu sei tifoso della sanità Ad ora hai scelto questo Perché non è così Tanti mesi sentire Non è così Perché quando c'è il mezzo Comunque i pronostici Eccetera Bisogna essere neutrale Se c'è una partita Che non posso pronosticare Perché non la vedo In modo neutrale Ve lo dico E non la pronostico Come ho fatto l'ultimo video Ragazzi Per me Per oggi è tutto Ci vediamo al prossimo video Se volete che vada avanti Perché altrimenti Potrebbe finire